Mi chiamo Silvia, ho 37 anni, abito a Piacenza, io ero molto sportiva, ero abituata a fare moltissimi chilometri al giorno in bicicletta e soprattutto per tenermi in forma, ho pensato che non sarebbe più stato possibile in quanto l'asma attaccava soprattutto durante l'attività fisica. Vedersi limitati in questo settore è stata una cosa molto grave per me a livello psicologico. A 20 anni ho avuto un aggravamento della patologia ad asma che non era più controllabile, sono stata malissima e non sapevo più cosa fare perché la mia vita è cambiata totalmente. Quando l'asma si è aggravata ho cercato di concentrarmi su altre cose, la mia seconda passione dopo lo sport era il giornalismo, quindi ho iniziato ad intervistare attori e cantanti e a scrivere per diversi giornali. La mia famiglia è stata molto importante in quanto mi è sempre stata molto vicino, ma soprattutto un ruolo fondamentale l'ha giocato un mio amico che fa il cantante, si chiama Marco e attraverso la sua personalità prima di tutto, poi la sua energia e la sua musica sono riuscita a dimenticarmi totalmente dell'asma. Il medico è stata la persona più importante che mi ha aiutato a convivere con l'asma in quanto mi ha dato tantissimi consigli e soprattutto mi ha individuato la terapia corretta. Ultimamente ho deciso di riprendere l'attività fisica in quanto quando l'asma è controllabile anche lo sport è fattibile. Avere ripreso l'attività fisica mi fa sentire molto bene perché comunque viene a colmare quel bisogno che avevo prima e di conseguenza posso continuare a condurre una vita normale. Ai pazienti che vogliono tornare ad avere una vita attiva consiglierei soprattutto di non arrendersi mai perché la vita è la nostra quindi non dobbiamo mai lasciarci vincere dalla malattia e soprattutto dobbiamo essere noi il sole della nostra vita.